Ciao a tutti ragazzi e bentornati qua su FIFA 15, siamo qua in compagnia di un mio amico Grazie Fabio Sono Valerio, fra qualche giorno avrete la fortuna barra sfortuna di, se volete, seguirmi sul mio canale Sì perché ha creato un canale YouTube un po' come faccio io, vuole diciamo copiarmi, imitarmi Perché sono troppo forte, come sapete E allora tanto qua sotto lascerete, no qua sotto lascerò poi anche il link per il suo canale Se volete iscrivervi potete anche iscrivervi Siamo qua su FIFA 15 pronti per fare una partita un po' la brutto, non si può dire, la brutto, un po' la cazzo di cane E diciamo che vediamo un attimo un po' come viene, diciamo che stiamo facendo un po' i coglioni in questo video Tanto diciamo che prima ho vinto 2-0 Ho vinto 2-0, ho giocato di merda proprio, da cani ho giocato Che facciamo? Io direi di fare una partita di squadra, io gioco una squadra normale, gioco... real Io non lo so, non lo so, vai a me Uso il re, 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 real Madrid Sociedad Sociedad, è vero, è vero, è real l'ho detto Con cazzo che uso quegli Sociedad Marci Oh, attenzione, super sfida, maglietta rosa, perché è la più figa, mica rosa è troppo No, così non ci capiamo un cazzo Maglietta rosa è troppo bella Ma non fesce a sta merda Eh, va bene È la bandiera della Francia Sì Così con la nera, dai Andiamo subito a vedere un attimo le impostazioni di gioco, c'è chiama l'Alliance? Sì, sì, sì L'Alliance inverno con la pioggia Dai, dai, pioggia No, pioggia no, mi sta sul cazzo Sereno Eh, signor Valerio Mi chiamo così la cazzo di cane No, 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 non si gioca al brutto dio Skippy, skippy, mandi avanti e poi ci rivediamo in partita No, no, no Dai, dai Non si può, non si può Ci rivediamo in partita ragazzi Ciao Ben Siamo tornati ragazzi Sì, abbiamo fatto dopo mille, milla ore abbiamo fatto la nostra formazione Che sta scorrendo qua sotto Non so se il zio Beppe vuole, no? Zio Fabio ti sei, cazzo sei No, io sono lo zio Lo zio Non c'è lo zio Fabio Vabbè, lui è lo zio Non so se vuole leggervela o meno Ma... No, no, no Vabbè Parlando un po' di te invece Che genere di gameplay Se vogliamo così definire Aspetta Sono impegnato Trattare Sì, ovviamente siamo un po' Cioè, voglio fare una bella figura Io, sapete che Non voglio portarvi un video del cazzo Già li porto che faccio a cagare Se poi perdo anche a FIFA con gli amici Diciamo che non è bella come cosa Porca troia Caccia Vaffanculo Mi hanno liberato Peccato che non possono vedere la mia faccia È proprio felice Proprio felice Mamma mia, come ti fa Che genere di video pensi di trattare sul canale Ecco Non spara tutto Cioè, ho poco e niente Madonna Mamma mia Mamma mia Casillas Tiene la partita aperta Adesso È il Cristiano Il Cristiano Ronaldo Mamma mia Va via Ronaldo 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 Va via sempre con un numero Sempre con lo stesso Sempre con lo stesso Beh, il numero è quello Non è che I numeri sono infiniti Ma Io Non te lo sai contare solo Io so contare solo la bicicletta Un'altra Un'altra ancora Veronica, no? La bicicletta Vabbè, sì È vero Vabbè, dicevo Video di giochi come Rise of Rome Che ho già pronto a casa L'ombra di Morda Comunque giochi Minecraft Minecraft Assolutamente Days The Forest The Forest The Forest Per i random kind Ma quel gioco Non ho mai sentito No, è fiero Cioè, è una merda Ma è fiero È una merda Ma è fiero E quindi Iscrivetevi al suo canale Tanto Poi porterà qualche video Oh Per ora ancora In fase di costruzione Nel suo pc Quindi Non siamo neanche in costruzione Siamo in pre-costruzione In pre-costruzione Vabbè L'acquisto Cioè, alla fine La parte importante D'abbiamo già messa Che sono i soldi Cioè, ce li hai Che sono i soldi E No, eh Ronaldo What a Ronaldo Tiro Shot What a Ronaldo Shot Cross Ex Bayern Pala fuori Eh, ma perché Lui sa fare i cross Non i tiri Eh Un battuto da squadra Senza offesa Attenzione Neuer Stombra rompe i coglioni Eh, Allianz L'Allianz Si pensa Non va a piovere Non puoi ria Non mi segna Se vuole Qua Il giocatore è per terra Ma ci va avanti Per l'arbitro Ronaldo Ronaldo Si fa Fermare subito Attenzione Verso El Robben Robben Va avanti Robben Prova a tirare Prende il palo Perché si deve vibrare Due volte Tra l'altro Ho preso Una barriera Ho preso Un palo Un palo ci va Carvajal Che dica Che dica Che dica Vede partire E il cristiano Dai cazzo Dove vai Ah no Fuori gioco Ti disimpegna Era lì che diceva Cazzo Va Ronaldo Tra l'altro Stiamo giocando Con una palla Da basket Con la perla neve Tra l'altro Della EA Sports Pallone Originale EA Manco quelli Della FIFA Sì Oggi Oggi Diciamo che Non è che faccia Dei bei passaggi Sti giocatori Ronaldo 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 Continua Ronaldo E Fallo Eh infatti Che cazzo Arbitro Ronaldo si incazza Isco Isco Va via Verso Cointrao Cointrao Non è In velocità Non riesce a superare Il marcatore Ronaldo Ho sbagliato il numero Eh ci può stare Le emozioni Anche Ronaldo Sbagli Micchia Le emozioni Allianza Arena Beppe È uno stadio Che Sì Puoi dirlo Grazie Micchia Ronaldo Sto ripensando A quello che hai detto Il telefono Che tanto Continua a vibrare Nei momenti Più inopportuni Cicchia 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 Eh questo qua Io non lo so Purtroppo Ronaldo Ha provato la bicicletta Ronaldo Ronaldo Tanto io sto cercando Di maciullare Ronaldo Vede Partire Che dire Che dire Che dire No che dire Sbaglia tutto E allora La difesa del Bayern Spazza Spazza via Attenzione In leva La difesa Però è solida Fin qui Anche quella del Portogallo Prima era solida Proprio su quella dell'utile Goetz Goetz Fermato Il campione del mondo E Ramos L'animale Pepe Qua entrava Qua entrava verso E Ronaldo Ronaldo Non ho capito Che cazzo abbia fatto Ma va bene comunque Dove vai Andava la base Vede partire Ronaldo Cazzo Corri Porco due Vai Ronaldo Voai Vai Ronaldo Vai Bravo Si può presentare una partita Senza gol Però Si infatti Cioè Beppe Casillas Io non calcio in faccia Casillas Stavolta lo sai che ti danno giallo Se adesso vai sul portiere Per il momento lo davano giallo Cioè Poi non ci potevi arrivare Lo sai ti danno giallo Sui fuori 0-5 Ti davano persino rosso L'uomo ha da 100 milioni L'uomo ha da 100 milioni GARRETT Garetto Bell Non ha concluso bene Garet Cioè Concluso bene A me sembra che il tiro L'abbia fatto Però sai Beppe Il tiro Non era Granche Ma Andrebbe bene comunque Robben Peppe L'animale Senza fallo Stavolta Strammente Mica Si è un po' Domani nevica Non ha fatto fallo Ronaldo Ronaldo Sbaglia Non lo poteva fare Altrimenti Mi sto ancora chiedendo Come hai fatto a parare Per il rigore Ah perché l'hai visto Bastardo No non l'ho visto un cazzo Oh salve qualcuno Prima l'hai tirata dietro Sì però l'ho tirato bene Mica era proprio sotto l'incrocio Ronaldo Ronaldo Prova comunque a tirare C'era il giro Palla in corner E' un'emozione questa partita 0-0 Come ti sembra Fin qua Beppe Bella Bella Grazie Fabio Nuovamente calcio d'angolo Cross Vediamo se ci invescenda Con i suoi cross Un cross che fa bene Il tiro Oh si è fatto male Boateng Jerome Jerome È infortunato Tanto qua Che ci abbiamo in panca In panca Non ci abbiamo in cazzo Di nessuno Bene Non ho difensori Di centro Mettici il cdc Ci mettiamo arena No mettici Rotte con cdc Almeno Ci mettiamo Allo osso Allo osso Ah no aspetta Ho detto l'arm L'arm non è anche un difensore L'arm è tra l'altro Il problema è un difensore Sì infatti Non so perché adesso sia Bo Va bo E Negwer Pronto alla rimessa Nero Negwer Negwer verso l'arm Pallone un po' Oh Però mi sa che è un fuorigioco Bobabia Non era fuorigioco Te lo giuro Pensavo fosse fuorigioco Benze 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 Spacca la bandierina Adesso 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 Andato da Chissà dove cazzo Andato Benze Ma era fuorigioco Zio No perché l'ho toccata io L'ho messa in gioco Sì Ah no perché c'è quello lì davanti Vedi no però Toccando la poi Il difensore l'ho messa in gioco Bo Karim 43esimo 1-0 Per il Real Madrid Beccato Come ti sembra Qua c'è stato Non è fallo Come Ragazzi FIFA 15 È un po' buggato Se fosse assin Oh Oh ma no Ronaldo 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 Mica raga No Se facevo gol così Mi andavo Te lo giuro Perché quello che t'ho fatto Prima io Con Con chi ero Con Candreva Con Candreva Madonna quello spettacolo Attenzione Isco Isco E dove vai Neier Dove vado Isci Isci Neier qua ha fatto un po' di sceneggiata Come il suo solito Tra l'altro Dove dire che è una bella partita finora Vai contro Si picchia Attenzione Lasciano perdere la palla Iniziano a vincchiarsi Attenzione Si danno all'MMA RONALDO Provei scivolato Ma Non riesce È leva È leva Lewandowski Lewandowski Verso Verso Ramos Boom Puuu Ma casiglia scera Era lì Finisce il primo tempo Signore Otto tiri per il Real Stavo dicendo le statistiche Da buon telecronista Parte Ronaldo È Ronaldo Io sono Gotta Ronaldo Gotta Ronaldo style Ronaldo 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 Il tiro Ronaldo Ronaldo Sono qui Io No Non la fate le soluzioni Io sono qui Guardalo Ho fatto un tiro nel cazzo Qua Ronaldo Cioè Signori Io Dove cazzo era Dove cazzo era Stavamo ancora bevendo Cioè guarda Qua dovevo bere Il mio gocetto d'acqua Come si senti in tutti i video Nel giro di tre minuti Signore abbiamo fatto Due gol Tre minuti Almeno sul punteggio Così Poi Garrett L'uomo da cento milioni Cento milioni Corre Corri cazzo Comunque amica Se uno che paghi cento milioni Poi non corri in partita Ti incazzi di brutto Minchia Io so che si è fatto Ah no è fallo Sa che di ball Attenzione Schweinsteiger Prova la cosa impossibile Da 35 metri Può fare battere Alla non so Non frega Cazzo Schweinsteiger Pallone un po' mollo Ma Mi importa È arrivato L'importante che arrivi in porto Poi Puuu Casillas Casillas Ci sei rimasto No No Che cazzo ho fatto Ma hai sbagliato Hai sbagliato Lewandowski Ma hai sbagliato Cosa ho sbagliato Oddio Non ci credo No Basta Lo devo sostituire Basta Il Garrett Il Garrett Il Garrett L'uomo da cento milioni Mette in mezzo Ronaldo Di testa Ronaldo Voglio l'esultanza Io sono qui Cazzo Non la fa Non la fa oggi Non la fa Perché sa anche lui Che non è una cosa giusta Non è una cosa giusta 3-0 Vale Siamo un po' In difficoltà Mi sembra Mi ha fatto la faccia Cattivissima Ronaldo È vero Ti sta per picchiare Schweinsteiger Proveri i numeri Goezze L'ex campione del mondo No l'ex Il campione del mondo attuale E l'Isco Il bambino Isco 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 Che non ha di dribbling Isco Vede partire Che dira Mamma mia che dira Che dira Che dira Che dira Che si dispera Neier che sono lì E gli dicono Dai cazzo Noia Dai cazzo Cross Cross Carvajal Carvajal Il calcio d'angolo Il cross di cross Mi sa che il calcio d'angolo Non si vede Direi di sì Ed è il calcio d'angolo Cross Cross in mezzo Di testa Che cazzo ci ha dato L'otto Non so chi ci abbia dato Carmier Carmier Neuer L'uomo L'uomo che potrebbe vincere il pallone d'oro Signori Ma qual'è che fanno il sorteggio A gennaio Sembra È il Garrett È il Garrett Garrett Dovevi farla agire Cazzo Cento milioni Poi mi fai un tiro Del genere Capito Poi vabbè È sinistro Quindi era difficile Buttarla Fatemi Sono scomodissimo Tipo Sai quale sensazione Che ti prude il culo Quando stai seduto male Si 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 chiama prurito Prurito il culo Ecco Quella che sto vendendo io ora Oh Ma salite Porco due Goetze Lo ferma sul più bello Fallo L'uomo è giallo Wey 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 Si picchia Guarda guarda Mamma mia come è prurito L'arbitro Che cazzo fa Ah no niente Non fa un cazzo Metti Mi dice Ti prego Mi lo fa gol L RT RT No questo qua Ah quello sotto Sì Fallo Mi tieni più forte Cazzo Ciavi No ciavi lui Ciavi Ciavi è l'onso Prova il sfiduro Ciavi Porco due What è l'onso gol Bell'onso 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 gol Calo di frame Bell'onso gol Beccato sembra 90 frame Zio Ah beh Prima girava 160 No 70 60 Vediamo Eh signori Che gol su punizione Bell'onso gol Casiglia squadra E' aumentato Guarda com'è entrata Guarda com'è cazzo entrata Guarda Casiglia S'ha fatto passare in mezzo No no è meritato 3 a 1 Il match si riapre Garrett Bale Garrett Bale Si inventa un numero Viene fermato Ha provato un po' troppo Qua Lewandowski Lewandowski Insiste Verso Goetze Goetze Oh merda Mamma mia 3 a 2 3 a 2 signori Riaperto Che giocata Guardi Difesa addormentata Eh bene Ma il gol Bel gol comunque Mica al volo Bell cross C'è il cross L'assist L'assist Bell' Oh basta Mica Ronaldo Cazzo No No Ronaldo non va stavolta Eh ma ne vedo un qualche call Mica 3 a 2 5 gol l'abbiamo visto Cosa? No quello che era Eh l'1 e 28 Sì È ubriaco È peggio No zio No 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 Bravo Bravo Qua entrao Best Best terzinaccio Eui E la madonna Fallo 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 Guarda ci sta Ronaldo Signori Ma la barriera non c'è Mica sei troppo distante No no guarda Ronaldo Prova il siluro Ronaldo Uuuu Mica guarda che c'era 3 metri fuori Ma vabbè zio Ho tirato da 40 metri Non è che tirato da 2 metri Eh ma Ronaldo è Ronaldo Ma Ronaldo cosa? Mica Ronaldo è Ronaldo Sì ma Non è Non è un giocchino Mica sciabialoso Mica sciabialoso Sciabialoso Attenzione Fuori gioco Oh Rizza ragazzi Rizza Signalo Attenzione Se ne vanno così Correndo Perché si è fermato Signore signori Robben Arsiei Arsiei Non potete vedere il balletto della felicità Dai ma non è possibile Ma che cazzo Ma è script Ma c'è lo script In sto gioco Ma che cazzo è È gottze Ma è la merda Questi sono gol Vedi questi sono gol Ma fangun Gol di Ronaldo è pittivo Ma Minnaggia Basta Su Adesso Ronaldo Ronaldo fa che dire Ronaldo Ronaldo Ora che lo fa come prima Sei bastardo No ma perché Sei fermato Mangiati la merda No No Vai Isco 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 lo voglio cambiare Prossima pausa C'è ora Sarà merda C'è il giocatore che dorme Isco 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 E se A lui gli rode Guarda E se Gli rode a lui Gli rode Ma perché che dia Vai se vuoi giocare No non voglio Attenzione Robben Arsiei Arjei Arjei Come i cazzo si pronuncia Arjei Robben No Porca troia Esci Bravo Casillas Pastillas Pastillas Castillas Vai Garrett Bababia Garrett Bababia Cazzo Fabriacare Oh Arbitro Grazie Così almeno c'è il cambio Esci con la tippa Di Isco Eccolo lì E se Mette in mezzo Di testa Riapre il match Karim Riapre il match 4 a 3 signori Bella questa Come azione Numero a casa Numero random Numero random Karim non perdona Signori Karim non perdona Un gol Di merda Sì Oh No Mi chissi Scena Franz Tiger Me ne vado Sì Vabbè Qua entra Oh What a contro Un number Cazzo Ma che cazzo È Ma che ci stai dicendo No RDS No Signore RDS È un mito Purtroppo Ha fatto una brutta fine RDS Non so Non mi evite È pericolosa Però Signore Tanta roba RDS Era Un nostro amico Ma vai Vai cazzo Ma non è fuori Il gioco Ma perché Ma hai scriptato Sto gioco Marco Marcio Porca troia Vai Non siamo qua tra tre Vai cazzo Vai cazzo Vai che l'hai visto partire RONALDO Grandissimo Mamma mia È parata What a parata Signori What a parata due Perché si è addormentato Il giocatore Sono ubriaco Cross Cross Pappa Pia Che azione Che azione Signori Karim di nuovo Karim La bandierina Che è sventola Avanti e niente Davanti ai tifusi del Bayern Direi di mettere Attacco tutta Direi che 5 a 3 All'86 Potrebbe Io direi di mettere Non contro piede Fuori gioco Trappade fuori gioco No No Non salire ora No No Mamma mia Mamma mia 5 a 3 Signori Dove sarà anche il portiere No Si C'è Noyer Cazzo Ora sentire il gol Karim Karim Fuora dalla porta Karim Karim Era sbaglia Karim Karim Cazzo Che gol Che gol Signori What a Karim Gol Guarda lo Ronaldo Che mi arriva Bello Non arriva più Ho fatto patire Che partiva Non è arrivato Eccolo da Ronaldo Poverino Mica Fotto solo due gol Oggi 6 a 3 Signori 6 a 3 Cazzo No Voglio il gol Ancora di Ronaldo Dice E se 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 No No Raga Ogni tanto Le dico Stutter Un pochino Perché sto registrando Che cazzo Fa la stutter Stutter Praticamente Fa con il Z Z E ogni tanto Ti dico Bale Bale Manca il gol A Bale Cazzo Bale Verso Elcr7 Elcr7 Prova la bomba Ma anche calcio d'angolo Perché l'ha toccata Oltraverso Ronaldo Eh ma Ronaldo qua Cercava il gol Signori Che va C'è unissimo fiero Di tacco Guts Finisce qua E' finita 56 a 3 Pesante Zio Eh vabbè Tra l'altro Vabbè Parto considerando L'ultimo gol Che è nullo Perché Minchia l'ultimo gol Comunque che cazzo Lo fa salire a fare Neuer 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 disperato Guardiamo Guardiamo la media Di Neuer Perché Qua ci sta la media Signore 4 10 Neuer 4 Prestazione Non mi puoi dare più A Benzema 8,4 4 Minchia Grande partita Alaba 5 e 3 Ha fatto un kate Alonso 6,3 Il migliore del tuo E Goetz Della mia Casiglia sotto i due Benzema Ronaldo Non mi puoi dare Solo 9,2 Signore Mi dai solo 9,2 Vabbè Comunque ragazzi Per questo piccolo video Qua è tutto Io e lui Speriamo di avervi Strappato un piccolo sorriso Ecco Come al solito Lasciate il like Se vi è piaciuto Iscrivetevi al canale Iscrivetevi anche al suo Che c'è il link Qua sotto in descrizione Io Se Dio vuole Ci vediamo con un prossimo video Lui Lo vedrete Tra qualche giorno Si spera Anche lui su Youtube Quindi Sperando bene Sperando bene Ovviamente Seguitelo Perché secondo me Merita Cioè Anche la parlantina Prima serie Sarà Rise Sono Fru Tra l'altro Non se ne vedono Tanti video di Rise E Poi Alternerò The Witcher Tanta roba The Witcher Con il primo e il secondo FIFA spero Con FIFA E giochi così E sono un po' Meno impegnati E Comunque ragazzi Per questo video Qua è tutto Come al solito Vi invito a lasciare Il mi piace Un commento L'iscrizione al canale Iscrivetevi anche al suo Ripeto Ci vediamo con un prossimo video Bella rega Ciao a tutti Ciao a tutti